Ben ritrovati, nuova edizione del TG L'Aquila di TV6. In apertura andiamo in provincia perché dal bilancio annuale illustrato oggi dal questore dell'Aquila, Alfonso Terribile, emerge che i reati predatori sono in calo in tutta la provincia grazie all'intensa attività di prevenzione e controllo del territorio che comincia quindi a dare i suoi frutti particolari nel servizio preparato da Filippo Tronca. I cittadini dicono i sondaggi d'opinione anche in provincia dell'Aquila non si sentono sicuri, si dicono allarmati dai reati predatori, ovvero dei furti in casa e dalle rapine. Ma i dati forniti oggi dal questore dell'Aquila, Alfonso Terribile, nella conferenza stampa che ha fatto il punto sull'attività svolta dalla polizia nel 2015, dimostrano invece che questi reati sono in forte flessione. I furti sono passati da 4196 del 2013 ai 3281 del 2015, da 1317 a 1168 solo nel capoluogo l'Aquila. Calono anche le rapine dalle 71 del 2013 alle 49 del 2015, di conseguenza sono diminuiti anche le denunce e gli arresti 81 nel 2015, 142 nel 2013. Il merito, sottolinea Terribile, è anche della prevenzione del maggiore mirato controllo sul territorio. E anche qui vengono a supporto i numeri, le persone controllate nel 2013 sono state 17.146 nel 2015, 24.300 e aumentano sensibilmente anche i controlli autostradali. Abbiamo registrato una diminuzione dei reati in generale, quindi complessivamente c'è stata una riduzione dei reati di natura predatoria rispetto al 2014. Un'attività che è di contrasto ai reati che hanno dato più fastidio alla popolazione, quindi i reati di natura predatoria, ma anche tutto quello che riguarda lo stalking e i reati di natura sessuale. Io voglio anche sottolineare soprattutto l'attività svolta così al servizio del cittadino che è un'attività che rimane un pochettino in silenzio, mi riferisco alle misure di prevenzione che vengono attuate dalla divisione anticrimine e all'attività della polizia amministrativa, sociale e dell'immigrazione. C'è poi, a proposito di predatori senza scrupoli e dei soliti furbetti, l'attività intensa della polizia sul fronte della ricostruzione post-sismica nel cantiere più grande d'Europa, dove, cosa scontata, che la malavita organizzata fa di tutto per entrare o di rimanerci. Ci sono inchieste in corso, si limita a rivelare il questore. Per quanto riguarda l'attività di contrasto a quelle infiltrazioni della criminalità mafiosa, la guardia è sempre alta e le indagini, ci sono indagini in corso e quindi che sono coordinate dall'autorità giudiziaria, più di questo non vi posso dire. Andiamo adesso all'Aquila e parliamo del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, perché secondo il decreto del nuovo ministro Dario Franceschini sono previsti degli accorpamenti e potrebbe farne le spese proprio la sede aquilana, che potrebbe appunto essere trasferita a Chieti. I particolari con Daniela Rosone. Potrebbe esserci a breve un ennesimo scippo ai danni della città dell'Aquila. Potrebbe essere Chieti la sede abruzzese della nuova sovrintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio, che nascerà a stretto giro di Boa, con un decreto che sarà firmato dal ministro Dario Franceschini, con l'obiettivo di portare avanti la riforma del MIBACT, già iniziata da un po'. Potrebbe, ancora non è, ma è chiaro che le reazioni stanno iniziando a maturare. Il decreto in questione prevede infatti la fusione in un unico corpo delle sovrintendenze archeologiche di Belle Arti e Paesaggistiche. Dunque la sede aquilana dovrebbe accorparsi con l'archeologica di Chieti. L'allarme arriva dal Vezio Sfarra della Cisla, che annuncia che nell'allegato al decreto c'è scritto che la nuova sede sarà a Chieti, mentre nel decreto stesso c'è scritto che l'Aquila è la città individuata come sede. Contraddizione che, per evitare il peggio, andrà chiarita ad ogni costo e prima possibile, per non far avere all'Aquila altri scippi. All'Aquila resterebbe infatti solo la sovrintendenza unica archeologica, artistica e paesaggistica per l'Aquila e per i comuni del cratere. Creata ad hoc questa struttura dal ministro Franceschini, che però esaurirebbe le sue funzioni con la fine della ricostruzione dei cantieri nell'Aquilano. Le reazioni politiche ovviamente non si sono fatte attendere. I politici, pronti, almeno a parole, a fare le barricate. La cronaca adesso perché sono stati denunciati tre aquilani accusati di aver rubato gioielli ad un'anziana di Pizzoli. La refurtiva pari a 450 euro non è stata però recuperata dalle forze dell'ordine. I dettagli. Sono stati identificati e denunciati per concorso in furto aggravato tre aquilani che nei giorni scorsi rubarono nella casa di un'anziana di Pizzoli vari monili in oreo per un valore di 450 euro. Ad incastrarli sono stati i carabinieri della locale stazione dopo un'attività di indagine. Una ventenne era riuscita ad entrare con i suoi complici nell'abitazione della donna simulando di avere urgente bisogno dei servizi genici. E così, mentre gli altri due intrattenevano l'89enne, la giovane si è diretta nella stanza da letto dell'anziana rubando diversi oggetti in oro. Solo dopo qualche giorno l'anziana si è accorta di essere stata derubata e ha esposto denuncia ai carabinieri ripensando ai tre giovani. Grazie ai particolari forniti alle forze dell'ordine si è così riusciti a risalire ad uno dei tre denunciati già notato in presidenza proprio a Pizzoli e successivamente agli altri due complici. I denunciati hanno ammesso parzialmente le proprie responsabilità ed hanno indicato il negozio di compro oro dove sarebbe stata venduta la refurtiva. Il titolare dell'esercizio commerciale al quale si sono poi recati i carabinieri ha fornito loro i registri di carico e scarico delle operazioni eseguite da cui si è scoperta la cessione avvenuta nei giorni precedenti di gran parte degli oggetti in oro sottratti all'anziana. Al termine degli accertamenti i carabinieri hanno quindi informato l'autorità giudiziaria formulando una denuncia in stato di libertà per furto aggravato in concorso a carico dei tre giovani aquilani. La refurtiva non è stata recuperata perché è già avviata alla fusione. Regione Abruzzo, approvata oggi in quinta commissione dal Consiglio regionale una risoluzione che intende impedire che la teoria del gender venga insegnata nelle scuole abruzzesi. No all'insegnamento della teoria gender nelle scuole abruzzesi. Lo dice una risoluzione con primo firmatario Paolo Gatti di Forza Italia approvata a larghissima maggioranza oggi in quinta commissione regionale. Unico voto contrario è quello del Movimento 5 Stelle. La risoluzione impegna il Presidente della Regione a sottoscrivere un apposito protocollo d'intesa con l'ufficio scolastico regionale per sancire questo divieto. Termine controverso quello di teoria gender che secondo una delle definizioni ha come nucleo fondante la non esistenza di una differenza biologica tra uomini e donne determinata da fattori scritti nel corpo ma è frutto di una scelta, di un fattore culturale. Per il mondo cattolico un'aperta propaganda a favore dell'omosessualità. Nessun intento discriminatorio nei confronti degli omosessuali tiene però a precisare Gatti. Quello che si sottolinea è che tale teoria non ha senso farla diventare materia di studio a scuola. A tutela giunge della famiglia naturale e della serenità dei nostri ragazzi. Credo che sia una risoluzione corretta con la quale impegniamo il Governo regionale a stipulare un protocollo d'intesa con l'ufficio scolastico regionale e definire il fatto che l'insegnamento delle teorie gender nelle scuole abruzzesi non sia un bisogno educativo. Noi siamo per la libertà educativa, siamo per il rispetto di tutti però non è un bisogno educativo andare dai bambini di 5, 6, 8, 10 anni a raccontare le teorie gender. Noi riteniamo che i ragazzi debbano crescere tranquilli, sereni, con l'educazione della loro famiglia, della scuola. Poi quando saranno grandi faranno le loro valutazioni nel rispetto di tutti. La discriminazione a leggere il testo della risoluzione c'è come ribatte Gianluca Ranieri del Movimento 5 Stelle ma la contrarietà è solo sulla forma, non sulla sostanza perché anche i grillini abruzzesi non ritengono opportuno che certi contenuti vengano insegnati a scuola. Noi siamo sostanzialmente concordi con quanto dice il dispositivo della risoluzione. Non siamo completamente d'accordo perché troviamo un po' forviante quelle che sono le premesse. Tra l'altro noi stiamo presentando in Parlamento, proprio in questo momento, una legge che prevede in sostanza la libertà di educazione nelle scuole e la possibilità per i bambini di essere formati sia all'affettività che alla sessualità. Tuttavia non votiamo questa risoluzione sia perché non è questa la sede per determinare cosa si insegna o cosa non si insegna nelle scuole che è una faccenda che attiene alla legislazione nazionale. Dalla regione ci spostiamo adesso al Gran Sasso, in particolare alla funivia del Gran Sasso perché sarà presto nuovamente illuminata e questo consentirà di effettuare nuovamente anche le corse notturne. Daniela Rosone. A febbraio la funivia del Gran Sasso sarà finalmente illuminata. Infatti il collaudo ufficiale dell'Ustif, l'ufficio speciale trasporti a impianti fissi per illuminare gli impianti scistici del Gran Sasso, è stato fissato per il primo febbraio. C'è stato un rinvio, la data originaria infatti era quella del 28 gennaio prossimo. I lavori hanno un importo di circa 40.000 euro e dovevano iniziare già nel settembre 2014, ma i problemi di autorizzazione e burocrazia hanno portato ad uno slittamento. Lavori accompagnati, come ricorderete, da tante polemiche. Superato questo impasse dei permessi, dunque, si potrà procedere finalmente al collaudo. L'illuminazione delle funivia è un aspetto molto importante per quel che riguarda il Gran Sasso, poiché consentirà di effettuare corse verso l'albergo di Campo Imperatore anche in notturna. Ad oggi, infatti, l'ultima corsa è fissata alle ore 17. Il centro turistico poi punta anche a riassumere la gestione diretta delle strutture di Campo Imperatore. Parliamo dell'albergo, l'ostello e del rifugio delle Fontari. L'affidamento attuale, infatti, terminerà a novembre del 2016. A breve partiranno anche i lavori, come annunciato dal Comune dell'Aquila, per l'albergo di Campo Imperatore, struttura ormai vecchia, mentre sono iniziati i lavori per lo snow park sul Gran Sasso. Tutta una serie di interventi, prima di quello più delicato e anche complicato, sulla seggiovia delle Fontari. Apriamo adesso la pagina politica e torniamo ad occuparci della richiesta fatta al governo dall'Italia dei Valori, tra l'altro presentata qualche giorno fa, ricorderete, in città, di una commissione di inchiesta per fare luce sui fondi e sulla gestione appunto dei finanziamenti post-sisma. Perché questa mattina è intervenuto il Movimento 5 Stelle in una nota, dove spiega che la richiesta di istituire una commissione di inchiesta sia stata presentata dal Movimento 5 Stelle ad inizio legislatura, con un disegno di legge a firma della senatrice Enza Blundo. Ci fa specie che due ex pentastellati, sottoscrittori di quel documento, adesso si facciano carico di presentare un ulteriore disegno di legge con la stessa richiesta insieme all'Italia dei Valori. Un partito che a tutt'oggi conta un rappresentante di maggioranza presso l'amministrazione comunale aquilana. Per di più, lo stesso segretario nazionale, Ignazio Messina, dice di voler prendere in considerazione una cooperazione con la senatrice del Partito Democratico, Stefania Pezzopane. Se ci fosse la reale intenzione di far luce sui fondi, basterebbe sollecitare la discussione in Senato per il disegno di legge depositato dal Movimento 5 Stelle a firma della Blundo, già assegnato tra l'altro alla Commissione Ambiente, precisano i pentastellati. In caso contrario, sarebbe lecito pensare che proprio coloro che i fondi post-sisma li hanno presi e gestiti si mettano falsamente dalla parte dei cittadini che attendono risposte dal 2013. Un'attesa che diverrebbe ancora più lunga con l'istituzione di una commissione d'inchiesta bicamerale come annunciato. E restando in tema politico, parliamo adesso di un importante giorno che c'è stato ieri in Senato, 180 sì per l'approvazione di una riforma costituzionale Boschi-Renzi, perché è arrivato l'intervento in una nota proprio della senatrice del PD, Stefania Pezzopane, che ha spiegato come ieri in Senato siamo stati protagonisti di una giornata storica che segna dopo 70 anni il superamento del bicameralismo perfetto inseguito fin dalla Costituzione e mai realizzato. Di fronte a questo risultato storico, le polemiche sul voto sono ridicole. La maggioranza, Palazzo Madama, ai numeri e comunque le regole del gioco si fanno insieme. Il bicchiere delle riforme ormai è quasi pieno, ma in questo Paese c'è sempre qualcuno che si ostina a vederlo mezzo vuoto. Noi andiamo avanti e fin da ora lavoriamo per il referendum confermativo dell'autunno, una grande sfida per il cambiamento che gli italiani sapranno cogliere. In Abruzzo, prosegue Stefania Pezzopane, il prossimo passo è costituire immediatamente il Comitato per il Sì. Dobbiamo coinvolgere tutti i cittadini in questa sfida alla modernità per il cambiamento dell'Italia. Il Senato delle istituzioni territoriali sarà un fattore di integrazione per il Paese e il superamento del bicameravismo paritario è un passo in avanti verso la democrazia governante perché i processi decisionali siano più veloci ed efficaci. Sono convinta, conclude la senatrice, che gli italiani apprezzeranno anche questa volta. Dalla politica allo sport, l'Aquila Calcio, in attesa della sentenza di primo grado sul caso Calcio Scommesse, che ormai potrebbe slittare alla prossima settimana, buone notizie arrivano dall'infermeria. I difensori Giordano Maccarrone ed Emanuele Pesoli sono infatti sulla via del recupero. Il servizio. Sospiro di sollievo in casa l'Aquila per il centrale difensivo Giordano Maccarrone. Lo strappo muscolare che lo aveva messo fuori gioco due settimane fa si sta pian piano ricucendo. Il giocatore si trova a Catania per terapie specifiche che stanno dando i loro frutti. Dalla prossima settimana inizierà a svolgere sedute di lavoro in piscina, poi entro fine mese atteso il rientro all'Aquila. Maccarrone potrebbe così tornare a disposizione a tempo di record già per i primi giorni di febbraio. I rosso-blu possono sorridere anche sul conto del neo-arrivato Emanuele Pesoli. L'ex difensore del Pescara si sottoporrà domani mattina ad una visita di controllo per valutare se il problema muscolare al polpaccio sia superato. Se dovesse avere esito positivo, l'esperto difensore laziale potrebbe essere a disposizione del tecnico Carlo Perrone già dalla prossima settimana. Intanto, sul fronte di mercato è tornato alla ribalta il nome del centrocampista classe 1995 Danilo Bulevardi del Pescara, vecchio pallino del direttore sportivo dell'Aquila Calcio Alessandro Battisti. Sul giocatore che cerca maggior spazio volendo anche scendere di categoria in Lega Pro c'è però anche il Catanzaro. Bene, è tutto per oggi. Vi ringrazio per averci scelto. Buona continuazione con i programmi di TVSENU. Ci rivediamo domani per una nuova edizione della TG L'Aquila. Arrivederci. Grazie a tutti i programmi di TVSENU.